Esteban, allora, un grande giro, ma com'è il sapore di questa sconfitta? Siamo felici, abbiamo dato il massimo che possiamo. Oggi Niva lì a Scarponia hanno mostrato che sono migliore. Io non avevo la gamba, e così è la vita, e basta. E qualche giorno che combatti con gli antibiotici, mi risulta, come stai? Ma no, no, nessuno, non ne ho scusa. Non sono il ragazzo che vuole dire, ah, avevo questo, avevo questo, no, no, simplemente non avevo la gamba e basta. Esteban c'era tua madre qui, che cosa ti ha detto? Sì, i miei genitori, prima volta che sono in Europa, prima volta per me con la maglia rosa, questa è la cosa più importante della vita. Alla fine abbiamo perso solo una corsa in bici. Esteban c'è di provare la volta? Prima di finire qui, mancano 160 km domani, questo è troppo, ah.